Sono appena tornato dalla mia prima conferenza di sicurezza informatica e penso che si noti dalle condizioni in cui sono abbastanza sudaticcio anche perché sono dovuto andare a prendere il treno, infatti sono un comodissimo, credo, tough trenord e ne valsa decisamente la pena. Lascia che te lo racconti. La conferenza in questione è la NOHAT 2023 che si è tenuta il 21 ottobre, sabato, a Bergamo al centro con ingressi Papa Giovanni XXIII che è 3-4 minuti a piedi dalla stazione dalle 9.15 dalla talk iniziale alle 18.30 circa, poi si è andati un po' oltre perché è stata un'esperienza davvero bella e che vi consiglio di ripetere, vediamolo un po'. Per cominciare voglio dirvi che sono andato a questa conferenza, quello che molto gentilmente mi ha accompagnato in automobile, preferisce restare anonimo, comunque se stai guardando questo video graffora. E aggiungo una nota personale, visto che ogni tanto mi viene chiesto ma per fare informatica è davvero così importante l'inglese? Farò un video sul tema, però vi dico se fare cose sul serio, capire veramente come gira il mondo informatico e non limitarvi a essere semplicemente dei pesci piccoli che magari non so fanno una ristallazione di Windows oppure se è un sito web con un po' di wordpress e olio di gomito, sì, vi serve decisamente perché la stragrande maggioranza della letteratura viene prodotta in inglese, vi parlo di letteratura informaticamente, la stragrande maggioranza dei talk sono in lingua inglese, esiste qualcosa in lingua italiana chiaramente, in questa conferenza tutti i talk principali stati fatti in inglese. C'era quello che veniva chiamato Executive Track, sponsorizzato da Confindustria, che era in lingua italiana ma tutto il succo tecnico era in inglese, dunque se volete capire l'informatica imparate l'inglese, almeno a capirlo, poi se lo parlate anche tanto meglio. Comunque vorrei parlare prima di tutto di quella che è un po' secondo me la cultura di questi eventi, l'ambiente ed è davvero secondo me molto interessante perché c'è molta informalità prima di tutto, ed è secondo me una cosa positiva perché si chiacchiera molto che sia con quelli che sono gli stand, diciamo, degli sponsor, che sono comunque aziende, quindi se siete alla ricerca di lavoro, magari anche semplicemente di consigli, di voler vedere un po' cosa va nel mondo informatico, una chiacchierata ci sta sempre, e si chiacchiera comunque molto da pari, di dire una cosa molto, a mio parere, del mondo informatico generale. C'è stata una sfida che hanno partecipato alcuni con dei badge hardware, io non l'ho acquistato perché non volevo portarmi il computer per smanettare, volevo fare molto tutto semplicemente, e la classifica è arrivata una roba ridicola, ve la faccio vedere. Ecco, penso sia abbastanza evidente come la sfida non fosse tanto relativa al socializzare, perché in teoria vedeva che si scambiava contatto con un'altra persona chiacchierando, e questo aumentava i punti di entrare nella sfida informatica, io non mi ero più il computer, comunque non è che avessi tanta voglia, perché era la mia prima volta a voler sparare un po' il mondo, magari l'anno prossimo mi porto il computer e anche prendo questo badge hardware e ci divertiamo un po'. Vediamo però un po' il programma. Prima di tutto c'è stata dalle 8 alle 9 e 15 la registrazione, fondamentalmente si andava lì, e neanche in realtà si mostrava il biglietto, si andava, si diceva il nome, si riceveva il proprio badge, era di cartoncino oppure quello hardware se si era richiesto, una borsa con dentro una maglietta se aveva diritto, mi sembra che gli altri, non lo so, anche alcuni gadget, ad esempio di portachiavi, uno molto comodo con apri bottiglia, delle penne, insomma, cazzate, utili. Anche qua, ripeto, un ambiente molto formale, io stavo entrando, avevo il telefono in mano con il biglietto, no, non ti voglio vedere il telefono, comunque ci stava tanto. C'è stato un talk introduttivo di Marco Balduzzi, nella sala principale, tra l'altro, veramente, veramente bella, dovrei avere una foto, ecco, è molto, molto bello, e questa era la sala dove sono tenute la maggioranza degli eventi di lato tecnico e quelli unificati come keynote. Comunque, dopo questa introduzione c'è stato un bel keynote di Herbert Boss, io vi lascio tutti i link in descrizione perché probabilmente verranno caricati su YouTube, come è stato fatto per le sue sedizioni, relativo alla verità sulle minacce informatiche. Fondamentalmente è stata una cosa molto interessante, devo dire, in cui questo ricercatore di sicurezza informatica ha spiegato come ci sia una radicale differenza tra il modo in cui pensano i miei programmatori, ossia come una sorta di sistema astratto in cui se esistono le minacce sono separate, che molto spesso non si valutano, al mondo reale, che è quello dove vivono gli attaccanti. Gli attaccanti sono in un mondo in cui esistono delle vulnerabilità e dove esse possono interagire. Il programmatore è difficile che vada a pensare ad esempio a come il suo dato venga salvato nell'hardware, ma se l'attaccante lo sa usare bene, sa questa cosa, la sa modificare bene ad esempio, potrebbe utilizzare un attacco hardware che gli permette di vedere e modificare determinati dati. Ho fatto l'esempio con combinazioni di Spectre con Arrowhammer e simili. Tra l'altro mi sembra che ci siano forse le slide. Guardatevi, questo è stato veramente, veramente interessante. Ci ho dato un coffee break che devo dire... mi ha permesso di bere un caffè e una birra. Sì, una birra alle 10 del mattino, vabbè, chi se ne frega. E poi c'è stato un altro spesso tecnico dai 10, 45, 11 e 30. Ammetto che avremmo voluto vedere il secondo, quello How to Break into Organization with Style, però era pieno perché era in un'aula più piccola e quindi abbiamo guardato il primo, quello Zero Phone, Abusing Zoom Zero Touch, Provisioning for Remote Attack on All Telephones e On Desk, non sudate, e devo dire che valsa veramente la pena. C'era questo ricercatore, Moritz Abrell, che ha spiegato veramente con estrema chiarezza e in un modo metodico da buon ingegnere tedesco, come ha scoperto una vulnerabilità sul sistema di Zero Touch, che permette fondamentalmente di configurare telefoni a distanza senza neanche doverlo fare effettivamente, senza dover andare sul luogo e mettere mano, ma con un sistema di configurazione, e praticamente all'epoca Zoom permetteva di fare un import massivo di dati, di telemedia, e di usare uno script personalizzato. Ciò cosa vuol dire? Io avrei potuto generare tutti i Macadres possibili per un telefono digitale, che ovviamente sia un vero e proprio computer o un Macadres per connessi in rete. Usare uno script personalizzato installava una sorta di backdoor, era assolutamente possibile dato che si tratta quasi sempre di sistemi link codificati, e non ha detto niente Zoom. Poi lui ha mandato la segnalazione all'azienda, che ha riparato la vulnerabilità, non del tutto, guardate se è possibile il Talk è veramente bello, e molti tempi probabilmente avrebbero fatto bene qua, devo dire, a scambiare le sale, perché poi c'era più domanda per la parte tecnica, in questo caso in quella di ricerca, che però è stata davvero illuminante, infatti poi ho scritto all'autore del Talk, perché veramente è stato utile anche a livello programmativo. Poi, dalle 11.30 circa, alle 12.15 abbiamo assistito alla parte tecnica relativa allo sniffing bluetooth di un ricercatore degli Stati Uniti, e ha sviluppato con un Raspberry Pi Zero un sistema di sniffing, e se l'ha portato in giro, se lo metteva in macchina e da quel momento ha detto che gli ingorghi nel traffico non erano più una cosa noiosa che si soffriva, una cosa bella perché erano tante macchine che passavano vicini da qui a sniffare dati, e ci sono stati interessanti ad esempio di tutto come sia relativamente fare questa forma di sniffing, di come sia facile analizzare i dati, e poi, e di come ci sono ad esempio delle caratteristiche localizzate. Questo mi ha ispirato nel fatto che, uno, potrebbe essere un progetto interessante, anche magari per una scuola superiore, fare una sorta di dispositivo di tracciamento di utilizzato un Raspberry Pi Zero, e i tool di analisi sono liberamente inibili. E, seconda cosa, per un'eventuale sfida in una CTF, potrebbe essere interessante un dump e aiutare, per richiedere, perdona, sono ancora abbastanza conto, richiede al... ricercatore di capire da dove proviene, potrebbe essere una sfida assolutamente interessante. Era un po' parlato veloce da dire, un po' confuso per certi versi, perché alcune sede erano state aggiunte negli ultimi giorni proprio sull'attuazione specifica tra Milano e Bergamo, ma questo è veramente utile, mi ha dato buoni spunti. E poi, siamo andati sempre nell'aula, quella bella che avevo fatto vedere prima, a sentire i maccheroni che ci hanno spiegato come hanno hackerato il famoso satellite. Non potrei rendere giustizia quello che hanno toro, se è possibile andare a vedere i talk, perché merita. Mi diterò a citare semplicemente una cosa divertente, quando qualcuno con un flipper si è messo a giocare e è apparsa sulla chiamata del Bluetooth, una richiesta di connessersi. Lì, no. Chiuso il Bluetooth dicendo, no, buon tentativo, ma no. Poi la parte ovviamente più importante della giornata è il pranzo. Ci fanno i ristoranti convenzionati, potremmo dire, ma alla fine abbiamo mangiato della pizza in stazione, quindi, di eccezionale. E infine siamo tornati a sentire un altro keynote, fatto da Jacob Torrey, ha sempre un esperto di sicurezza in pratica e anche, potremmo dire, studioso di queste conferenze, infatti si chiama la Tokimao pros and cons, e lui come pros intendeva quelli che parlano nelle conferenze professioniste, cons, non intendeva i contrari, ma le conferenze. Quindi fondamentalmente ha aiutato come certi vengono tratti nelle conferenze, ha analizzato anche come si sono cambiati negli ultimi dieci anni, come certi temi si hanno diventato più di interesse, come ad esempio uno dei temi più interessanti anche da più tempo di quanto pensiamo fosse la sicurezza mobile, lo ha detto fondamentalmente si è parla più affinato, è tutto dire, nei primi anni 90. Devo dire che è stato interessante, lui l'ha titolata come adesso di prendere dal coma a post passo, quindi una cosa abbastanza leggera, non eccessivamente tecnica, non è che uno deve mettersi a pensare, a vedere, ecco, assembli, diagrammi di flussi, ma comunque ha avuto la sua utilità. Nel 1445 abbiamo assistito invece a Fuzzing, Days of Vulnerability Discovery, di Richard Johnson, che è uno dei massimi esperti nel settore. Ho assistito circa metà del talk, la ragione è che era molto interessante, ma era abbastanza daisy, potremmo dire, avevo già assistito delle lezioni a tema advertising, ad esempio fatte da Live Overflow, mi ero interessante, quindi avevo guardato alcune cose, e dunque ho preferito andare nella zona caffè, non a cazzeggiare, ma a chiacchierare alcune persone, dunque ho interesse, andare negli stand degli sponsor e anche prendere dei bollini per partecipare a una lotteria, purtroppo non ho vinto niente. Comunque devo dire che è stato interessato, e comunque progettavamo di andare via prima, perché dovevamo andare nell'aula sopra, quella che si riempia facilmente, per guardare un talk che sembrava molto interessante, che è quello delle 15.30, Undercoving Data Breach, the Puzzle Reconstruction of the Radiation Analysis, e dico sembrata perché forse c'eravamo hypati perché io avevo letto il programma che avevo al collo e non quello effettivo, e pensavamo fosse una cosa più generale. Il tema è stato tratto anche in modo interessante, devo dire, è uno scritto di un po' appunto da questo Matteo Reddelli, che è un esperto in response, con cui fondamentalmente si prende la cache di ADP, che è un sistema di testo premoto, e si ricostruisce questa cache, che sono immagini, perché ovviamente un sistema di testo premoto trasmette immagini, ovviamente di ricostruire in modo intelligente quello che, ad esempio, di fare con degli algoritmi, capire quali sono i bordi delle immagini in modo da ricostruire meglio, ordinare le immagini che ci sono, sulla base, ad esempio, se c'è del testo o meno, dei colori, e simili. Alcuni di questi tool esistono già, la tecnica comunque è abbastanza nota, vi lascio qualche link in descrizione, c'è una tecnica abbastanza nota, lo script dovrebbe essere rilasciato, fondamentalmente lui aveva detto dopo la conferenza, devo vedere se c'è già in caso, cercate e trovate, commentate se l'ha messo, e devo dire che, più che altro, non è interessante, è comunque sempre interessante vedere come si sviluppa un programma, avrei sottolineato in un modo un po' diverso, ad esempio facendo vedere, ha mostrato, praticamente alla fine, che stanno già dei prodotti simili, avevi fatti vedere subito, dando un po' quello che è lo stato dell'arte, facendo vedere come il programma proposto l'avrebbe migliorato. C'erano dei problemi audio, e questo non era un gran che, purtroppo, si era interrotto anche un paio di volte la trasmissione, e l'audio non era purtroppo aiutato dall'accento di Matteo, e queste cose, purtroppo, forse, essendo una conferenza, comunque, in l'area parte italiana, avrei fatto più in lingua italiana a questo punto, avrebbe avuto più senso, l'avremmo capito di più, perché l'audio veramente era quasi incomprensibile, nella saletta dove c'era l'audio, ovviamente, probabilmente, lì era, andava di persona, era più facile da capire. E mi viene anche da chiedermi le soluzioni in cui ciò ha senso, le situazioni in cui ciò ha senso, infatti, al giorno d'oggi, RDP, praticamente, viene quasi sempre utilizzato dietro la VPN, e sono possibili, in tal caso, altri sistemi di logging, ovviamente. Quindi l'idea di una violazione così a caso su una RDP non protesta la VPN, dove c'è da fare incidental response, sicuramente esiste, perché si fa, però mi sa di una situazione di incoscienza, prima di qualsiasi altra cosa. Nel senso, una situazione in cui magari un'azienda poco esperta lascia un RDP aperto e viene violata e deve chiamare un esperto di informatica a sistemare. Dunque, sì, molto interessante, lo sviluppo, devo dire, è molto utile. Forse sarebbe stato bene discutere di come rendere sicuro un RDP, prima di tutto, perché alcuni probabilmente non lo sanno. Sfortunata, perché ci sono tutte queste interruzioni, l'audio era problematico, però devo dire interessante. Poi un altro che però non l'abbiamo fatto in virtù di quello anticipato prima durante il tour sul fuzzing, siamo andati nell'aula, sempre nel testo, finalmente a prendere posto, a sentire Juan Cavalero, non so come si pronunciava ieri forse, che ci ha parlato di come si stimano i guadagni in Bitcoin e in generale in altre criptovalute. È stato molto interessante, infatti, se vi interessa il tema, datelo perché ci ha spiegato come si possono sia sovrastimare i guadagni, sottostimare. Ci ha spiegato che il metodo classico è semplicemente di vedere quelli che sono i depositi diretti sui conti, fondamentalmente ha una stima che funziona, che vale per tutte le criptovalute che hanno un registro pubblico, ma che può essere problematica in alcuni casi quando si tratta di valutare in toto, perché spesso è a ribasso, ma di come altre tecniche possono essere decisamente a rialzo. Cioè, fate vedere ad esempio come utilizzando una tecnica abbastanza utilizzata per calcolare i guadagni di una truffa si arrivava a 6 miliardi di dollari, che è una roba impensabile, poi utilizzando i dovuti metodi si arrivava praticamente a 12 mili o cosa del genere. Il fatto è che si deve comunque considerare molto bene come si muovono i soldi, ad esempio alle volte vengono mossi i conti della stessa persona, dello stesso gruppo, alle volte certe transazioni vanno in conti collegati allo stesso conto, dunque va tutto tenuto a mente. L'ultimo talk al cui abbiamo assistito è quello Nottingly di Kirillis, solo che si pronuncia che dovrebbe essere la ricerca di fisica della Lettonia. All'inizio avremmo voluto vedere il primo, però poi abbiamo deciso di voler rimanere più sul lato umano a quel punto e abbiamo fatto bene, perché il primo sicuramente è stato interessante dal punto di vista tecnico, ma sono conoscenze anche acquisibili, magari lavorando nel settore o leggendo documenti. Il talk di Kirillis è stato invece molto interessante poi a livello umano, diciamo che se gli altri talk ci hanno aiutato a diventare migliori professionisti informatici, questo ci ha aiutato a diventare migliori cittadini. Ed è talmente interessante che ho deciso di fare un video separato sul tema della privacy, di quello che ha detto, valutando bene tutto quello che ha detto. Se magari pubblicherà le slide, le commenteremo proprio insieme. E per concludere siamo tornati a questa bella, bella staff per la premiazione della CTF, per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questo evento, che siano gli organizzatori, gli collaboratori sul campo, gli sponsor e via discorrendo. Abbiamo assistito anche la premiazione della lotteria, del badge hardware, di cui abbiamo visto prima i risultati, comunque alla fine sono riusciti a premiare qualcuno. E dopo i saluti ci siamo avviati, alcuni sono andati in una piccola radio socializzazione, io sono andato in stazione a prendere il terreno e da lì ho registrato la prima parte di questo video. Devo dirlo, è stata un'esperienza molto interessante, un'esperienza che vorrò ripetere, probabilmente nel 2024 sarò ancora a Bergen, ma assisterà la NoHat, dove ho comunque parlato con gente interessante, ho anche incontrato persone che già conoscevo, comunque avevo perso i contatti, persone che avevo conosciuto all'università. ho assistito a trucchi interessanti sia da un punto di vista tecnico, come quello su Zoom, sia da un punto di vista umano come quello sulla privacy. E proprio per questa ragione vi consiglio, se avete una conferenza informatica vicino a casa, di partecipare, specie se potete permettervi, ed è vicino, perché vi permette veramente di respirare un'area molto interessante, di vedere tante cose, sentire tante voci dal mondo informatico, sentire come vanno le cose nel mondo informatico, conoscere altre informatici, vedere anche come vanno le cose nelle aziende, vedendo un'esperienza da fare, finché non la si fa, non la si capire, diciamo così, va vissuta. E valutando che la NoHat costa solo 20 euro per chi non è universitario, mi sembra 30, per chi non lo è, valutatela per l'anno prossimo, se siete nella zona di Bergamo o comunque i vicini e potete raggiungerlo. Con questo io concludo, se questo è tutto, vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale, se c'eravate anche voi lasciate anche un commento e vediamo se magari ci siamo visti. Ringrazio ancora che ho organizzato questo evento e anche il mio amico che mi ha accompagnato permettendomi di evitare di prendere un tiro all'andata e buona continuazione.